Ciao, sono TheGame, anche conosciuto nel mondo del karate come One Punch Man, famoso soprattutto per il mio amore per la natura, che mi ha portato a provare un profondo odio contro gli armali, causa numero uno della deforestazione. Dopo aver vinto molteplici competizioni, ho deciso di allontanarmi dal mondo delle arti marziali per dedicarmi completamente al League of Legends, gioco su cui, per sorpassare i grandi nomi della top lane, ho passato interminabili giornate a studiare i migliori top laner europei, affinando così la mia tecnica e diventando uno dei giocatori italiani più rinomati per skill e stile. E se pensi che tutto ciò non basti per vincere il mondo del mese? Beh, hai proprio la mamma puttana. Vota TheGame.